Sì, Beppe Grillo è un po' come la nostra punta di diamante per quelle che sono le idee di tutto il movimento e che lui sostiene attraverso il suo blog e che noi stiamo cercando di portare al Consiglio regionale. Beppe Grillo è un blogger, non sapevo. Sì, Beppe Grillo è un blogger, uno dei blog più eletti in Italia e sicuramente uno dei primi al mondo. Questo è il blog, vero? Sì, questo è il blog. Beppe Grillo.it. Ma è in italiano? Cioè, in italiano, in inglese e anche in giapponese. Ah sì? Giapponese? Sì. Bravo. E il nome del candidato? Il nostro candidato presidente si chiama Vito Crimi. Vito Crimi. Vito Crimi. Abbiamo presentato la lista la settimana scorsa e le nostre idee sono quelle di presentare un partito che sia fuori dai canoni classici. Le sue proposte sono piuttosto rivoluzionari per quello che è il contesto attuale. Innanzitutto è un occhio di riguardo all'ecologia e poi è una visione nuova della politica che deve essere fatta dai cittadini e non più dai partiti che fanno sicuramente gli interessi dei grossi gruppi economici e utilizzano solamente il loro potere per autoreferenziarsi. quant'è il primo giorno di raccolta abbiamo raccolto circa una cinquantina di firme. Dobbiamo arrivare a mille, meglio mille e cinquecento per essere sicuri. E sono parecchie, abbiamo pochissimo tempo a disposizione e ci stiamo dando molto da fare. Ah, allora oggi è un giorno importante perché è il primo giorno. Sì, oggi è proprio l'inaugurazione del nostro banchetto. E il primo giorno trovi un uomo che può registrare te e... Sì, infatti, infatti è stato veramente un colpo di fortuna. So, well, you can tell us where we are. We are in Pavia e, you know, so people can come here. What is this street name? I forgot the name. Questo è Viale Matteotti. Che è Emiliano Matteotti? Everyone who's interested in signing up and helping this guy? Sì, eh, eh. Um, well, you guys can come here. Abbiamo solo un mese, only one month. Oh, solo un mese. Sì. Ok, cool. All right, man. Nice talking to you. Ok, thank you, bye. Ciao.